La Grande Chiesa, dedicata al cuore immacolato di Maria Rifugio delle Anime, aperta al culto il 6 agosto dello scorso anno, anche stavolta era agrimita di pellegrini in preghiera in occasione del 14esimo anniversario della morte della serva di Dio Natuzza Evolo. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo della Diocesi, Monsignor Attilio Nostro, ha visto la partecipazione di un gran numero di pellegrini provenienti anche da altre regioni d'Italia. Tra questi i due figli della mistica di Paravati, Angela e Francesco, affiancati dalle loro rispettive famiglie, gli unici rimasti in vita. Per tutta la giornata, tra commozione e profondo raccoglimento, in tanti hanno affollato la Villa della Gioia, hanno pregato e partecipato, oltre a quella mattutina, anche alla messa serata che si è svolta nel santuario mariano. Si sono soffermati dinanzi alla tomba della serva di Dio, posta nella cappella situata nella diecente casa per anziani Monsignor Pasquale Colloca, la stessa dove è serenamente espirata nel giorno di ogni santi nel 2009. L'opera di Mamma Latuzza, che con la semplicità delle sue parole ha saputo dare accoglienza e ristoro a tantissima gente, è stata sottolineata dal Vescovo, che ha ricordato le migliaia di persone che davanti a lei si sono sentite protette e amate, qual è segno dell'accoglienza di Dio e del cuore immacolato di Maria. Questa piccola grande donna è riuscita ad accogliere ogni persona che si è rivolta a lei, a prescindere dall'età, dal ceto sociale, a prescindere dalla cultura, ed è bello il fatto che tutti la ricordano come una mamma, cioè come una persona accogliente, così come anche Maria per noi. Allora oggi è stata un'occasione molto bella per ricordarla, è stata un'occasione anche per unirla, unirci a lei nella preghiera a tutti i santi e l'occasione è ancora più importante, visto che questa ricorrenza di ogni santi ci ricorda la comune vocazione alla santità. La santità che lei ha vissuto e che noi siamo chiamati a vivere è la santità del quotidiano, che il Signore ci renda davvero santi nel nostro quotidiano. Monsignor al nostro ha poi espresso vicinanza agli operatori di pace impegnati nelle zone di guerra che rischiano ogni giorno la propria vita per far ritornare la pace e per combattere la disperazione della gente. Ho ricordato alla fine che Maria è figlia di quella terra, così come figlio di quella terra anche Gesù e sicuramente Maria che ha un cuore aperto e materno per tutti avrà un pensiero ancora più particolare, ancora più speciale per la sua terra. Quella è la terra di Maria, è la terra di Giuseppe, è la terra di Gesù e sicuramente questa terra merita una sorte migliore, più bella, più santa. Nella sua omeria il presule ha anche parlato della piaga devastante delle cosche mafiose che ostacolano ogni forma di sano sviluppo di questo territorio, del pizzo che favorisce l'Andrangheta, una presenza, quella mafiosa che con le sue azioni blocca la nostra provincia, la nostra regione e il futuro dei nostri figli. Abbiamo ricordato come l'Andrangheta non è una questione irrisolvibile, è un fenomeno umano, come diceva Falcone, tutti i fenomeni umani possono essere sconfitti. Il modo migliore è quello di non essere più consumatori di droga, di non essere più consumatori di slot machine, videopoker, scommesse e quant'altro e non alimentare più attraverso anche il nostro modo superficiale di non pagare le tasse o di non pagare attraverso gli scontrini, di non far diffondere questa realtà che è l'illegalità. Prossimo appuntamento sempre nella vita della gioia il 12 novembre per l'anniversario dell'arrivo della statua del cuore immacolato di Maria.